You think you know me? Buongiorno buonasera ragazzi bentornati in un nuovo Q&A Allora di domande vostre sinceramente non ne abbiamo trovate granché Nel senso che numericamente non ne abbiamo trovate granché Quindi mi raccomando anche se siamo in un momento un po' distallo del gioco Vi invito a fare più domande possibili Come vedete ci sono come sempre a schermo il Dario Nepala Ciao E questa volta mi ricorderò di mettere l'immagine che mi ha dato Sara Ciao Allora premessa Mi levo il colso che mi dimentico che sto facendo spesso Questo mese io non farò la jamir né con il mio né con quello di D-Gen L'account di Mardi lo sta giocando Project Unlucky Il preferito di Sara E se la Sara è partita a ridere Quindi sì perché è una storia lunga molto divertente Però beh privata E io non posso per motivi di salute Anzi infatti anche dei live vi diremo bene i giorni in cui ci saranno Perché sarò ricoverato anche settimana prossima Non l'avrei potuto fare il jamir Allora l'ha preso lui Lasciamo stare la storia che è divertentissima Bravissimo ragazzo ragazzi vi giuro E quindi non sarò io a giocare Quindi se trovate Mardi non sono io Premessa Seconda cosa importante Il China probabilmente lo prendiamo questo mese Secondo me Sganciamo sta bomba Che dici Darione? Non come tutto Come PG più o meno lo raggiungiamo Sì è probabile Io visto la mia grande memoria Mi sono scordato qual era l'altra cosa che dovevamo dire All'inizio Pala vieni in soccorso Questo che l'hai detta tu Ho capito ma l'hai detta tu Boom vabbè Allora ragazzi Il cliente me l'hai chiamato Non è tutto E niente come al solito Però aspetta Ragazzi apprezzate la freschezza Voi che state vedendo questo video Di noi come siamo vestiti nel 2021 Un inizio sfavillante Sfumeggiante direi Ah ragazzi Io sto in piedi per miracoli Comunque allora Parlando di cose un po' più serie Il gioco adesso Adesso sta diventando Ah ecco cos'era Ma lo sono ricordato Andate tutti sulla pagina Facebook Di Sensei Acoz E mettete il like al commento Dove vi chiedono se tenere la nuova Modalità di ban O la vecchia Voi mettete like Non vi fate domande Mettete solo il like E' importante mettere like Quindi per una volta Fate solo mi piace Basta Niente Non fate altro Poi una piccola parentesi Sulla La modalità energy Infinita Per fare in fretta Le 30 partecipazioni Fate un team solo Di bambini E andate avanti così Così la partita Finisce subito Tanto non bisogna Vincere o perdere L'importante è solo Partecipare Per cui con i bambini E' la cosa più veloce Che potete fare Easy Oppure se volete giocarvela Essere infami Vi consiglio i cheap hop Ecco l'energy Però difficilmente Riuscirete più a giocarla Perché tantissimi Hanno Quando la gente ha capito Andatevi i bambini Che fate la meglio cosa E mi dissocio Da quest'ultima affermazione Allora Invece Argomenti un po' più così Domande che mi ricordo Non state fatte più che altro Sul gruppo sub E come fare a livellare Velocemente Il tempio di Shion Il reburn Spoiler Non si può fare E no Non ci stanno Nei fiori viola E per chi pensa Che sia una scelta sbagliata Non lo è Per una sola ragione Vi faccio un esempio Ci stanno Quei pack shoppabili Flower Lucky Box Che sono d'oro Però sono comunque I fiori che trovereste Nei cosi viola Se quindi Uno shopper Avrebbe avuto Avesse avuto Madonna mia Vabbè Avesse avuto la possibilità Di shoppare all'infinito Quelli Cioè Di shoppare quelli Ci fossero stati dentro I fiori del reborn L'avrebbe già 5 Quindi in realtà È una scelta Per evitare Che si crei Un dislivello Clamoroso Fra chi shoppare E chi no Quindi per una volta In realtà Vi hanno fatto un favore Hanno fatto una cosa buona Tenete conto anche Di un'altra cosa Essendoci Un solo personaggio Nel tempio Le stats che dà Sono comunque Abbastanza basse Però la Shion Sarà comunque Condannato a avere stats basse Io vi dirò Con le stats basse Funziona meglio Che con le stats Molto molto alte Ma per il semplice fatto Che lui da morto Fa quell'unica botta Che vi salva la partita E il resto della partita Per quanto mi riguarda Lo gioco protettore Di Shion Quindi stats Sinceramente Me ne frega poco e niente Che quanto Quando muore Daffo Dilcariati Dei 300k Easy Non farà 300k A voi Farà 150 Con QPG Vole una shotta Quello è il concetto Per quanto riguarda Invece Un'altra domanda Che è stata fatta spesso Almeno lì sopra È Lo scambio di polveri Prima che lo mettessero Ragazzi Io vi ricordo Che gli scambi E le cose varie Vengono messe sempre Il venerdì Quindi non è che Se il mercoledì Non li trovate Non li hanno messi E che arrivano Il venerdì No Se che non l'hanno messo Il venerdì scorso Vabbè Ma quello Non dissero Che viene messo fisso Due volte al mese No Allora È una storia Un po' più complicata Ahia Allora In pratica Sono accorti Che ne stavano dando Un pochino troppe Rispetto a quanto Dovevano E effettivamente Mi sono fatto poseidone Con quattro pezzi Comprati di polveri Anche io Ora hanno fatto la distinzione L'evento di scambio Arriva sempre O mercoledì O venerdì Uno dei due Se non lo vedete mercoledì C'è sempre venerdì Però è di due tipi Che hanno due nomi diversi Anche se sono lo stesso evento Praticamente C'è Limited Exchange E Astral Gem Shop Qualcosa L'Astral Gem Shop Qualcosa Dovranno avanti Ci saranno solo scambi Per Advanced Gem Non ci saranno mai più polveri Di scambio È l'evento un po' più raro L'evento un po' più comune Che è Limited Exchange Ci saranno sempre le polveri Da scambiare Più oltre la roba Quindi vabbè Insomma Si sono bilanciati Non mi sembra una cosa Ne hanno tolte un po' Perché Mi sono accorti Che ne stanno andando troppe Se vi siete riusciti A fare poseidone In un mese Effettivamente erano un po' tante Le polveri dati Eh sì Io quando ho fatto dei pezzi di Ade Mi mancavano 100 polveri Per fare poseidone Infatti le finisco domani Mazza bello Allora sì Effettivamente ci sta Io le sto continuando a fare Senza guardare i numeri Quindi Semplicemente mi troverò Zero polveri normali E tutte polveri divine Però vabbè Per il resto Intanto c'ho le casse di là Per il resto Allora Parliamo di un argomento Che penso sia quello Che interessa un po' tutti E ne approfittiamo anche Per fare un video Che di solito facevamo Che c'erano tanti pg Adesso non c'è più La modalità di avere tanti pg Questi siamo quasi a pari Ovvero Quello che uscirà Quello che uscirà Lo sappiamo già E vi do una brutta notizia Che in realtà Secondo me è bella Milo è un pg Pullabile Non verrà regalato Pare che a venire regalato Sarà Iolos Non mi ricordo Chi l'aveva già preannunciato Ma sembra che Quel leak fosse vero Perché un tweet Da parte stesso Di La persona che fa i disegni Quella che ha fatto le skin Di Pandora e Atena Ha confermato Che Milo è pullabile Quindi martedì O lunedì Non mi ricordo Quando fanno la patch In China Ci sarà Milo pullabile E Aionos dovrebbe venire dato Il regalo al capodanno cinese Non sono sicurissimo Di quest'ultima Perché mi fa un po' strano Cioè due DC Molto molto ravvicinati Un po' particolari Perché non ne sono usciti Per secoli Però potrebbe anche essere Quindi ci sarà Milo DC Pullabile E Shishima Probabilmente Anche da noi Saranno i personaggi Di gennaio Voi che dite? Sì Ormai siamo lì Cioè Non è che hanno molte Alternative Come dicevamo all'inizio Se ormai l'abbiamo raggiunti Però potrebbe In questo Oggi Ad oggi C'è soltanto Shishima Esatto In più sul China A lunedì o martedì Diventeranno di nuovo due Perché ovviamente Arriverà Milo Per loro E però qui ti ricordo L'asino E se invece Tanto questo video Sarà uscito alle 5 Il banner sarà uscito alle 14 Potrebbe essere Shishima Anche da noi E essere soltanto di nuovo Milo Soltanto in più da loro E a quel punto Ce lo dovremmo aspettare Per fine mese O per febbraio Così Teoricamente Cioè anche per capire Un po' l'andazzo Che voglio Se il banner Fosse a 6 Già nuovo Da noi Si potrebbe avere Pensare di avere già Un banner Con un altro PG nuovo Verso il 27 Potrebbe essere già Un banner con PG Con Milo In questo caso E a quel punto Poi L'SS Che loro avranno Probabilmente O il 26 O il 2 Noi potremmo averlo Verso Verso il 17 Di febbraio Che come fu Praticamente Come fu perade Per me Infatti Secondo questa cosa Di arrivare a paro È buona Proprio per questo Così si evita Questa situazione Di dire Il PG fa schifo Il PG prossimo È meglio Aspetto a pullare Anche Beh in realtà Si mantiene Perché poi Quando ci fosse Che siamo in pari Con il China Vai a vedere Il PG del China Dici Ma vale la pena O aspetto il prossimo Perché questo qua Non mi convince tanto Il timore Rimarrà per sempre Però lì puoi incorrere Nella prospettiva Di tipo Eh sì Però puoi sbagliare Nel senso C'è Ci scima All'attuale È cambiato Un'altra volta Noi ovviamente Ci teniamo le scan Per Probabilmente Il video che registreremo Domani Perché io sono convinto Che si uscirà a lui È stato cambiato Di nuovo E adesso è diventato Un PG giocabile Perché come Quando era uscito Faceva Non cagare Perché i suoi effetti Sono nuovi e particolari Ma chi cazzo Lo usa Quattro Energy Stranamente Hanno risolto Clamorosamente bene Il problema Cioè Che poi è il problema Di Cavallacaruda Sì È vero Che non è ancora Stato risolto In Cina Infatti in Cina Si stanno lamentando E mi fa ridere È strano Mi sembra Che l'ho cambiato Lo steno per cambiare Anche lì E lo stanno per cambiare Però insomma La cosa che mi fa ridere È che per una volta A noi è arrivata Una cosa positiva Un mese prima di loro È quella la cosa strana Perché Cioè Lui Io c'ho un dubbio Sul China Noi siamo praticamente Al pari di PG È ok Ma Raperclutto come si è messo No Ci manca ancora Ci manca ancora molto Raperla Quelli che ci mancano Di più Quelli Cosmi un paio Mi pare Tre No adesso quattro Perché c'è il nuovo centrale Pura Però Raper Mi sembra che infatti Mancasse ancora Raper Manca Cavallino Manca Radamante Krishna Krishna I due Ikki I due Ikki Ah i due Ikki E l'altro Ah quello A esce Per i fatti suoi Quindi E Aspetta C'è un altro pure Non lo ricordo Comunque C'è un altro pure Cioè nel senso Sono tanti Io l'altro giorno Ci stavo riflettendo Alla fine No hai ragione Sono tanti Infatti Però aspetta Cioè Io un'idea la butto là Se sono furbi Quelli di GT Arcade E lo sono Sul guadagnare Fanno i ban No sul guadagnare Ho detto palo Sul guadagnare Nemmeno Perché secondo me Buttano fuori L'RC come banner Esempio stupido RC contemporaneo Di Cavallino E di Ikki Banner Di Ikki Cavallino Con Raper Clot I doppi banner Sono carini Poi per giocatori nuovi Prendere di Potrebbe essere utile Appunto Di cosa Potrebbe essere un'idea Fare qualcosa del genere In realtà Penso che Allora interessi meno Raggiungere il China In fretta Sulle Repair Clot A parte il fatto che Comunque Noi ne fanno due al mese In China ne fanno una Ultimamente Quindi Le recupereremo comunque Effettivamente Hanno rallentato Anche su quello E vabbè E' chiaro Che ci sia comunque Una crisi A livello di Nel senso Di mano d'opera Come dire Eccomi La parola Diciamo mano d'opera Come sta succedendo Un po' per tutti In giro Quindi hanno rallentato Un po' tutto Però Non lo so Il fatto pure Dei Cosmi Che da noi si aspetta Il nuovo Shrine Che si rallenti Un po' Con i banner Va bene Se nel frattempo Recuperano un po' Ste cose Perché di Cosmi Siamo parecchio indietro Ma soprattutto Non li possiamo farmare Quindi è abbastanza inutile E per il resto RC e roba varia Effettivamente ha ragione Sara Siamo tanto indietro Potrebbero iniziare A cacciarne qualcuno Potrebbero fare Degli eventi legati Più che altro Perché comunque Gli RC sono una cosa Che soprattutto Per i giocatori Che spendono Tira ormai Quasi più dei banner Visto Gli RC Ne stanno facendo Comunque Uno inizio mese Uno a metà Seconda metà del mese Quindi li recupereranno Sul lungo Ma il fatto è che Tanto gli RC A loro interessa Forse di meno Metterci in pari Con il China Perché l'effetto sorpresa È molto meno influente Sull'RC Che sul Beh però sai Metti caso Per esempio Adesso da noi Uno che si aspetta Parecchio Pandora Pandora la sbroccano Completamente Ma tanto Non salti Ma tanto non salti Un RC L'RC li fai In grosso modo tutti Perché l'hanno baffato Tutti Su questo Effettivamente Hai ragione Però Qualcosa Che non Non può Permettersi Di rilasciarli Tutti Comunque Non è che Può dirsi Aspetto Mi conservo Le risorse Per il prossimo RC Invece di fare Questo Perché è più difficile Conservare le risorse Per gli RC Non ha più Dopo le casse Però a questo punto Allora Noi abbiamo In ottica Shishima E Milo DC Allora Milo DC L'hanno cambiato Era ovvio Non ancora A livello di skill Bene propria Nel senso Come funzionamento Perché è rimasta Ancora quella possibilità Di immunità al danno Che io spero Venga tolta Però Hanno cambiato Il fatto Che adesso Serve solamente 5-5-4-4 È un risparmio Allucinante Sono scherzato Perché non lo capisce Sono ironico Cioè L'hanno iniziato A cambiare Probabilmente Subirà qualche altra Piccola modifica Perché comunque È ancora strano Come personaggio Però il fatto Che forse Lui è pullabile Lo vogliono rendere Molto forte Si può dire così? No Più che altro Vogliono renderlo Utilizzabile Anche magari Senza Butterci dentro 40 tomi Adesso ne poti Dentro 36 Il base Anche lui Petterlo a 4 Potevice prima Il base Era l'unico Che potevano Portarlo obiettivamente A 5 Perché Scala il danno Fa più danno Ma non è che non funziona Senza avere il base A 5 Ok Questo è vero Però rimane comunque Un pg da 4-5-4-4 E Allora Se fanno un pg al mese Effettivamente Ok Ci può stare Perché I tomi Te li fai Però Shishima chiede ai tomi lui chiede a Tommy poi c'è l'SS è una bella guerra cioè per dire nemmeno chi shoppa può farsi tutti a 5 a questo punto così è ok si è già visto che queste discussioni non sono veritiere chi sta facendo tutti a 5 a prescindere ma sai in realtà ormai quelli che ce l'hanno tutti a 5 e mi includo anche me stesso perché io sono un risparmiatore seriale quindi in teoria non valgo però non sono più così tanti tipo nuovo Shion, Luna e Garuda è raro vedere Garuda, Luna e Shion 5 tutti full 5 intendo ma anche perché Garuda non aveva nessuna utilità al Sardin Bates però prima ti ricordi c'erano anche dei personaggi che non avevano utilità a portarli a 5 li portavano a 5 come diceva Pala che fai brutta figura che poveranza cioè si ok stanno contenendosi leggermente però tanto quelli che shoppano pesante le skill a 5 le stanno portando su comunque senza preoccuparsi adesso però sai non lo so per esempio ora arriva Shishima io non so se è un PG da fare Iver over skilled o soprattutto da fare di corsa per me è un PG o da fare o da non fare nel senso non lo puoi fare a metà o ce lo fare sì è come cosa è quello che mi preoccupa uguale Milo è come Shion raga Shion se lo prendevi o ce li buttavi o non tanto voleva non prendere come Shion anche perché io e Pala ad esempio che eravamo due di quelli che Shion eravamo indecisi se pullarlo cioè se no pullarlo se skillarlo alla fine l'abbiamo skillato come andava skillato praticamente cioè perché tanto sono quei PG che una volta che ce li hai li prendi in più in questo periodo di forse come dicevamo non sapendo cosa esce cosa non esce è anche difficile decidere quante risorse tenersi da parte perché veramente se siamo se abbiamo potremmo avere tempo per far tutto quindi però vedi questo è giustissimo l'ultima frase che hai detto c'è più tempo per fare le cose ok però prima era un personaggio tipo come ha detto Pala prima come fu per Sirione uno come fu per G-Canon due e passava un po' di tempo qua abbiamo Shion Shishima di Cimilo poi c'è il cazzo sì ma il punto è perché ha un account da dei Wano comunque che ha molti mesi alle spalle se non è interessato alla Jamir non gli servono tutti i PG no no ma infatti però adesso proprio diventa diventa un po' una tagliola nel senso sì no sì no punto non c'è più lo prendo lo inizio poi ci penso e sì no infatti sono quasi tentato io di dire Shishima no quasi lo devo vedere in game però cioè non l'ho ancora ben visto come funziona in gioco quindi ce la vedi mezzo ce la vedi mezzo lo pullo faccio il rebate delle skill non quella delle skill totali e lo parcheggio però se lo può permettere uno che ha tante risorse da parte uno che c'è una che è un po' a corto no esattamente quindi quello che vogliamo farvi capire con questo discorso è che adesso non è più facile come una volta darvi un parere oggettivo cioè tu dici il personaggio l'abbiamo visto nel China un'idea ci siamo fatta funziona non funziona adesso anche perché sono personaggi soprattutto Shishima che hanno impattato relativamente poco il gioco normale cioè non si vedono più in jamir e roba varia è difficile fare delle previsioni o dare dei consigli certo il gioco adesso va preso per divertirsi più del normale cioè io mi sto divertendo con il poco che riesco a giocare coi suonatori e buonanotte cioè basta fai delle partite allucinanti c'è Rozzan che sotto dopo che ha perso è andato sotto il video a scrivere perché è successo l'inveresimile che in realtà da lì non è successo niente di che ma c'è stato un povero ragazzo che ho preso che in un turno Orfeo gli ha skillato quattro volte dai bellissimo giocare così con quattro bann banni tutti i pg più fuori di testa del gioco noto piacevolmente almeno da noi che bannano i personaggi fuori di testa anche gli altri quindi bene o male ci si diverte così penso si sia un po' persa la corsa devo avere quel pg per forza perché altrimenti cioè scendorplice non lo vedo tantissimo in pvp non so voi non fa la differenza yoga dc men che meno al momento i due pg più impattanti sono comunque i due ss ad e tal quello sicuramente però intendo pure a livello proprio secondo me di chi ce l'ha nel senso io non vedo molti che hanno pullato shion non lo so secondo me se ne vedeva di più il primo periodo che era appena uscito poi tanti hanno già smesso di usare può essere anche perché forse come dicevano prima pala e sara si sono accorti che se non l'hai fatto full di skill non dico fa cagare però non è fortissimo io lo uso questo però non è un pg indispensabile sicuramente una partita dove Tantos non è bannato è interessante da avere sì ma comunque anche con Tantos almeno con Tantos lento 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 che uso io riesci comunque da girarlo non è un'ebellaccia estrema in pratica mi viene da dire una cosa e con questo chiuderemo il video con questa affermazione pericolosissima secondo me il meta change di questo mese sarà il will of the star non sarà un personaggio non sarà un personaggio c'è Tantos dentro il will of star ah ok quella sarà la più grossa meta change del gioco di questo mese bisogna vedere anche i repair di questo mese questa settimana dovrebbero uscire dei repair e poi uscisse Radamante potrebbe entrare in meta cioè prima è vero però aspetta potrebbero farli anche insieme speriamo più che cavallino c'è prima coso c'è Krishna prima di tutto è Krishna però effettivamente a livello logico sarebbe una buona mossa di marketing far uscire il will of star poi spero che il will of star esca a fine mese ed esce con reperdi Radamante l'isber Radamante no appunto c'è l'rc quando esce il will of star così da poter usare Radamante che è nel will of star insieme a Tantos che è nel will of star insieme a Pecci che è nel will of star potrebbe essere interessante cioè è un po' appunto intendo quello che farà il will of star sarà fare un po' più i team meta con personaggi all'interno di quello sfruttando quel tempio tipo se uno mette Tanatos Radamante e pesci contemporaneamente dentro e sono tutte e tre nel tempio prendono tutti e tre dei buff molto interessanti sì ma Radamante però non va in un team con così tanti dps beh per fare delle partite alla Sara potrebbero essere divertenti perché diventa che accumula le ali in base a quanto viene picchiato quindi diventa una sorta di più simile a Mook che ad altri pg appunto io ce lo vedo ben insieme a due dps a TNSS e Shion che protegge insieme a DC Shion cose così cioè tipo io ormai gioco praticamente con Poseidone che fa tutto e tanto solo che mena praticamente sarà usato in line up Radamante RC con Lune per dare i critici Pesci quindi Pesci Lune baffa Pesci Pesci fa un bel po' di critici e fa un po' di fiammelle turno dopo baffa Radamante si dai doppio turno e spara delle cose in DC io lì in mezzo tanto ci ho metto capito quello è il discorso la differenza è che piglia le ali anche quando tutti i tuoi compagni vengono attaccati quindi può essere anche l'unico fisico questo è vero però è per sfruttare il power up del tempio perché proprio la skill del tempio non le stats il fatto che quando muore qualcuno ti alza il critico e soprattutto più turni vai avanti più attacco prendi diventa divertente giocare e comunque parlando di pullati tornando invece al discorso di prima bisognerà vedere se questo sistema che hanno applicato questa settimana rimarrà è vero perché qui è un discorso anche sulla legge sulla ludopatia perché adesso sono obbligati a garantire il personaggio del banner in un qualche si voglia modo io non so se sarà come il China però era già comunque più o meno garantito entro X ma non può essere più randomico deve essere fissa così non è randomico per niente lo sapete che dovete pullare era 520 mi pare hai fatto i conti oggi allora sono due ogni 10 quindi bisogna 70 700 700 pullate di fila però poi ci sono tutti i vari rebate roba varia 40 al giorno è capace che si attesterà su un 550 ma basta che mettono quelle maledettissime shard con alsea scusa no in realtà io preferirei che fosse più come al China che dopo un tot ce l'hai come rebate cioè nel China dopo 450 pull hai il PG nel rebate punto ah ok semplicissimo oppure come adesso cioè in realtà questo sistema a me piace mi sto facendo a TNS è facilissimo e mi piace come sistema metti quelle garantite fisse come sono adesso 10 ogni pull basta sì ma in realtà sono due shard ogni 10 pull sì sì ovviamente livellando il sistema e lo ricordo che era in teoria l'estrazione l'estrazione è leggermente più di due no vabbè però il sistema io sto promuovendo non la quantità la quantità deve essere ti dici l'idea sì l'idea è buona cioè l'idea è fisso io ripeto se si assestasse sui 550 600 mi andrebbe anche bene sinceramente 600 è garantito senza pullare facendo il rebate ti scende circa 550 esatto e io lì volevo arrivare mi sembra una cosa molto umana sinceramente poi se scendessero ancora di più ma lì potrebbero mettere un pochino di rebate anche al 100 al 60 al 200 ti può metterti 1 o 2 shard anche lì per abbassare ancora leggermente di più però però beh punto sono idee carine che potrebbero aiutare molto l'economia del gioco anche perché bisogna vedere come evolverà la tempistica nel senso se uno ha più tempo di accumulare ci può stare che viene chiesto un po' di più per pullare quello è il discorso bisognerà vedere pure le nuove modalità che escono quelle saranno molto impattanti perché faccio l'esempio se come da per loro se fai il galactic a tot cose ti dà pure la possibilità di scierti le skill tome non mi ricordo come si chiama le scroll tipo là c'era la DC Leo che se facevi le gender ti dava 3 skill di Leo se mettono pure queste cosette così potrebbe essere interessante un po' più facile farmare bisognerà vedere quanto ci avviciniamo al China e ste robe certo chi cazzo usa Leo però vabbè finché è gratis va tutto bene allora ragazzi noi vediamo cosa uscirà domani vedremo cosa uscirà anche martedì come patch note io non mi aspetto che anche questa patch note me lo aspetto più verso fine mese però vediamo e boh avete qualche ultima cosa da dare qualche ultima vabbè io lo devo dire viva Tanni questo è pacifico un ultimo remind qualcosa il like su quel post mi raccomando solo like nessun altro tipo di reaction infatti ragazzi è importantissimo allora fate così lasciate un like a questo video e poi andate a lasciare il like tutto a quel post esatto fate easy proprio anzi faccio pure una cosa ve lo lascio pinnato nel primo commento tanto lo programma adesso il video quindi easy buona serata ciao ragazzi ciao ciao